Non si vende l'episodio 3, adesso si vende Uff, adesso si vende Uff, continui, non si vende lì ma si vende adesso I Mixer distruggono la casa dei Gabby I Gabby stanno uscendo di casa Intanto nel futuro c'è Gabby che dice Vado da Gabby, un suo iscritto, ma sei tu Gabby? E Gabby ascia Entra in un portale Nel presente Te cade nel gabinetto Gabby del presente entra e incontra Gabby del futuro Intanto io uso la pistola di Mattia E Mattia la mia spada e combattiamo contro un nemico Yeee, abbiamo vinto Yee, viva Lanciamo le cose per l'aria però cade una borsa al tizio Il tizio si stacca la testa Io Nooo, la mia spada Mattia Nooo, la mia pistola Riprendiamo le nostre armi e il tizio gli attacca la testa A me vi cresce il braccio spada E a Mattia Il cannone reale Ed incontrava il rene In Excel Poi usiamo tutto l'attacco per combattere Poi si scopre che si doveva distruggere la corona Gabby tocca il nemico E il nemico si divide Yee, viva Dopo Fene Rip, aerobrain Rip, remix Epilogo I mixer dicono Grazie Io Preog Fine Grazie 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 Grazie